La bellezza di questa location va oltre il significato delle parole che si possono utilizzare per descriverla e nel giorno più bello della vostra vita, qui alla Locanda Armonia, avrete la sensazione che il tempo si sia fermato mentre festeggerete immersi in una romantica atmosfera e viverete la magia di un evento indimenticabile. La villa vi mette a disposizione un ambiente raffinato ed elegante, con numerosi spazi per allestire il ricevimento. Il giardino e la terrazza sono la cornice romantica e suggestiva per il banchetto o per un cocktail al tramonto. E se le temperature della stagione non permettono di stare all'aperto, disponete di una sala per ricevimenti all'interno dell'edificio, arredata con stile e abbellita dalle delicate decorazioni scelte apposta per l'occasione. Piazza del Conte è la splendida sala da ballo, in cui passerete in compagnia dei vostri ospiti i momenti più divertenti. Nella sala, inoltre, è presente un'area bar dove rilassarsi e gustare le specialità alla griglia e i buffet caldi e freddi. Per permettervi qualche momento di relax o per trascorrere la prima notte di nozze, avrete a vostra disposizione la suite nuziale. Il ricevimento, gli allestimenti, il servizio fotografico, la possibilità di celebrare la cerimonia in loco e l'accompagnamento musicale saranno professionalmente gestiti e coordinati dall'equip qualificata della villa su vostra richiesta. Lo staff vi garantisce un'organizzazione perfetta con speciale attenzione ai dettagli. Non solo lo scenario vi conquisterà, ma anche la cucina saprà conquistare i vostri sensi. Prodotti autentici e genuini che incontrano le mani esperte dei migliori chef danno risultati eccellenti, tanto da meritare da ormai tre anni uno spazio all'interno della prestigiosa guida dei migliori ristoranti Gambero Rosso. Adagiata su di una terrazza naturale, affacciata sugli ultimi vigneti della Valle Cavallina nella provincia di Bergamo, immersa in un parco di ulivi secolari, la Locanda Armonia è uno scenario ideale per trascorrere i momenti più belli nel giorno delle vostre nozze.